Io credo sia senz'altro un caso esemplare, un monito a tutti, sicuramente poi si tratta di un uomo che ha molte cartucce ancora da sparare. Avete detto che non ci sono novità, io direi che una novità ci sia e andrebbe sottolineata perché denota la forza di quest'uomo ancora in questa situazione in cui si trova, e cioè la famosa lettera, famosa no perché se ne è parlato pochissimo, la lettera Carlo III che di fatto lui scrive il 6 maggio ma, ripeto, con molta incisività invitandolo a vedere come si vive lì, a come ci si suicida, a come ci si droga per passare il giorno, a come i topi mangiano, divorino tutto, alla situazione di enorme faticenza e di gravissimo squallore, degenerazione in cui si vive nel carcere di sua maestà. Direi anche che si è parlato di autocensura ed è una cosa assolutamente inquietante in tutti gli ambiti in questo momento, non soltanto in quello delle redazioni giornalistiche. e da questa parte sentivo un commento, si diceva siamo corrotti, sono tutti corrotti, siamo tutti corrotti, nel senso che ognuno di noi bada molto di più alle sue tasche, alla sua convenienza a conservare il posto di lavoro che è diventato sacro, invece che, piuttosto che salvaguardare i principi e comportarsi coerentemente rispetto ai principi. Voglio dire, nel 1846, Thoreau, grande filosofo assolutamente escluso dai programmi ministeriali, perché è quello della disobbedienza civile, rinunciava, e cioè si rifiutava di pagare una tassa, quando ancora le tasse, se ne parlava nel blocco precedente, quando ancora le tasse erano motivate, adesso hanno smesso di motivarle, ti paghi l'IRPEF e non sai dove vanno i soldi e per cosa, il paghi e basta. Ma quando ancora erano motivate, c'era ancora questa ingenuità, lui sa, viene a sapere, che quella tassa era dovuta per finanziare la guerra contro il Messico degli Stati Uniti. E quindi si rifiuta e finisce in galera, e gli dà addirittura, non gli dà neanche la soddisfazione di lamentarsi, perché dice, dalla finestra del mio carcere io vedo una luna bellissima e non sono mai stato così bene. Ecco, il discorso qual è? Che noi abbiamo bisogno di uomini, e gli uomini li fa l'educazione, e l'educazione la si dovrebbe ricominciare a fare nelle famiglie, si dovrebbe ricominciare a fare la scuola, ma se noi continuiamo a dire alla gente che deve salvarsi il culo, che deve salvarsi il posto di lavoro e che per questo motivo può tranquillamente calpestare qualsiasi aspetto morale, beh, la figura di Assange rimane isolata e noi lo condanniamo, noi a morte, ogni giorno in cui ci dimostriamo incoerenti. Grazie. Grazie.